Ringraziare i miei ragazzi perché hanno dato il cuore fino all'ultimo minuto di oggi e hanno fatto un campionato straordinario. Ringrazio la società, ringrazio il presidente Germanetti, ringrazio soprattutto il mio staff che mi è stato sempre a fianco, mi ha aiutato in questi mesi. Sono pienamente soddisfatto, ripeto. Abbiamo fatto un campionato oltre le aspettative, siamo andati veramente forti fino all'ultimo. Mi dispiace arrivare al corto in una partita importante come questa, comunque l'abbiamo giocata alla pari. Non credo che il Bado ci abbia messo sotto. Un episodio poi ha fatto sì che andasse a favore degli avversari.